Assolto da ogni accusa, è una sentenza che farà discutere quella pronunciata nello Stato americano della Wisconsin. Kyle Rittenhouse, il diciottenne che l'anno scorso ha ucciso due manifestanti di Black Lives Matter, è stato dichiarato non colpevole di tutte le accuse. La giuria ha ritenuto credibile la difesa del giovane, secondo cui la ragazza avrebbe sparato diversi colpi di fucile per difendersi da un'aggressione durante i disordini nella cittadina americana di Canoscia, due giorni dopo che un ufficiale di polizia aveva sparato a Jacob Blake, un uomo di colore. Il giovane era ancora minorenne quando colpì diversi attivisti afroamericani nel corso delle proteste. Rittenhouse era stato incriminato con cinque capi di accusa, tra cui l'omicidio premeditato che gli sarebbe valso l'ergastolo. La soluzione è stata decisa da una giuria di 12 persone. La soluzione è stata decisa da un'aggressione, tra cui la soluzione è stata decisa da un'aggressione,